Lo scorso 2 dicembre la CEA, società controllata dal Comune di Roma, e la MECOROT, società idrica nazionale di Israele, hanno sottoscritto un memorandum di collaborazione nel settore delle risorse idriche. Questo accordo non va affatto. La MECOROT è responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani. Sottrae acqua illegalmente dalle falde idriche palestinesi, provocandone l'impoverimento. Devia l'acqua del fiume Giordano, riducendone fortemente la portata. Fornisce l'acqua rubata ai territori palestinesi occupati, alle colonie illegali israeliane e a Israele. Rivende ai palestinesi la loro propria acqua, facendo pagare prezzi più alti. Pratica una sistematica discriminazione nelle forniture di acqua alla popolazione palestinese. VITENS, il primo fornitore di acqua in Olanda, ha interrotto un accordo con la MECOROT, motivando la decisione con il proprio impegno verso la legalità internazionale. Esigiamo che la CEA segua l'esempio della VITENS e receda immediatamente dall'accordo stipulato con la MECOROT. Chiediamo al Comune di Roma di intraprendere tutte le azioni necessarie perché la CEA interrompa ogni attività di collaborazione con la MECOROT. Fai sentire la tua voce contro l'apartheid dell'acqua. Il nostro impegno non è solo per l'acqua pubblica, ma anche per un'acqua limpida e libera. Il nostro impegno non è solo per l'acqua pubblica, ma anche per un'acqua pubblica, ma anche per un'acqua pubblica, ma anche per un'acqua pubblica. Il nostro impegno non è solo per l'acqua pubblica, ma anche per un'acqua pubblica. Il nostro impegno non è solo per l'acqua pubblica.